It's my Perché dobbiamo aprire un bel po' di soglie al pass che l'ho lasciato Praticamente l'altra volta ne ho aperte giusto qualcuna Da Gerindo Ho aperto la 32 La 34 Perché alla fine niente ci usciva E ora prendiamo tutte queste insieme Direi di iniziare ho finito prendere tutte le missioni Raid mono perché è la prossima Manga 600 quindi troppo Direi di iniziare ragazzi Il nuovo brawler bellissimo Guardate qua Epico quindi si può trovare Iris Eccolo qua l'avrete visto come funziona Ma non è senza che ve lo spiego E' epico e poi il semino Dobbiamo trovare anche speriamo Iniziamo dalla provocazione io direi Eccola qua quella di Gerindo Poi andiamo con le gemme sotto Tanto sono inutili 20 gemme oneste Cassa enorme Uno skip 38 gemme Mi deve dare almeno due skip per Almeno un gadget o un brawler Uno skip niente Cassa enorme sotto Poi le monete Andiamo un po' sopra Ma altre relazioni di Gerindo Mega cassa e qua si può trovare qualcosa Intanto Andiamo sotto E ci prendiamo anche per Gerindo Così praticamente lo possiamo No però avanzano se lo prendo a Gerindo Vabbè andiamo di mega cassa allora Andiamo il tronchetto giusto a caso Speriamo che vada Mega cassa Due skip O brawler o gadget Io vorrei il nuovo brawler Fa boom boom Come al solito Gerindo max abili 8 e 90 Non so Non lo maxiamo però Perché non è buonissima L'abilità 3 2 1 Dammi brawler Che po' le sembra il gadget Quello di rosa Sì appunto Quello di rosa Ma dai ma basta Poi reazione quello con i cuori va Gerindo Apriamo Adesso quelle sotto Vabbò riscuotiamo la cassa qua Solo monete No no Adesso la mega cassa Perché mi deve dare adesso il brawler Al tronchetto la mano No Solo un botto di monete 400 euro a doppio gettoni Cassa brawl Perché sennò spreco anche i punti di energia sopra Cerchiamo di non sprecarli Andando sotto A prendere le cose Faceva boom boom E mi ha dato alveare Spargi miele Di bea Uno dei gadget Più inutili del gioco Ma dai Gem Cassa brawl Cerchiamo di non sprecare quelli sopra Infatti Mo vado un attimo sotto Fa boom boom Che po' È impossibile Trovarlo Incendiario di bro Che buono Ma mi da solo gadget Ora Cioè abilità Vabbè Andiamo sotto Eh sono ricco ora Basta con sti soldi Dammi il brawler Per favore Lo devo trovare Devo trovarlo Un nuovo brawler No no Non mi da niente Vabbè Si aspemmo Vengo Chiudi Cassa e no Mega cassa Dai Almeno qua Oh no Dai no Gem Niente Cassa e no Vabbè Quasi finito Non ho trovato il brawler Perché poi ci manca sopra Niente Non si potrà maxare Credo Questo è la cassa Sprecati Vai Credo Paggettoni Emotico Rara Ha ruotato No dai Ma solo monete Altre emoti Con il gelindo Epica No però 300 Così a buttarli Dai Pochissime monete Cose sprecate Ok il gelindo Mercato Tantissime monete Un'altra provocazione Mega cassa Skip Potrebbe uscire alla fine Almeno da mi semino Che più ever No dai scherzo Qualcosa E' un nuovo brawler E' un nuovo brawler Sui colpi angolati Sono una vera minaccia E la super Le permette di comandare Il bip Il suo amichetto esplosivo Oh L'abbiamo trovato Ma almeno Non me l'ho potata Prima Così trovavo più Punti Energia Vabbò Praticamente niente Raga Se mi da semino Me ne vado No Quella di 8 bit Vabbò Neanche servivo Però dai Mi ha dato un botto di roba Alla fine Neanche poco E' questa qua Vabbò dai Beh ragazzi Siccome abbiamo trovato Il nuovo brawler Abbiamo trovato Tantissima roba Pugaltro Un botto di abilità Gadget Quelle da bea Pro A4 Ma questo è buono Intanto A livello 2 Ce lo potenziamo Dai almeno questo Devo portarlo su Con Gelindo E in questo video Visto che si può Maxare qualcuno Mmm Uno brawler Un brawler buono Da maxare Vediamo chi potrebbe essere Non fortissimo Perché sennò E' inutile da maxare Quindi maxiamoci Penny Livello 8 Livello 9 Boom Mandata Poi troveremo abilità Forse Forse dai E che dire ragazzi Ci vediamo alla sfida Beati voi che lo vedrete Ciao Oh perché ho trovato Il video Iris Vabbè lasciamo stare Ciao One eternity Later Molto bene Dopo averlo portato Almeno al grado 16 No in realtà Dovevo farlo fino al grado 20 Però lo porteremo A grado 20 Intanto ragazzi Vecchie stagioni Un po' da 2 o 3 stagioni Non è che sto tanto salendo Ma ho superato Grax Non sto salendo più Ma questa stagione La recupero più o meno Faccio il record 22.000 coppe Visto che finisce fra 3 giorni e 23 ore Vedete il mio record 11 sono vicino Visto che ho sbloccato Sia lui Sia il gelindo E in questo video Ci andremo a maxare appunto Il nuovo Brawler Lo abbiamo sbloccato E lo maxiamo Cioè questo non è stato Registrato Tutto lo stesso giorno Ragazzi Però voi lo vedrete tutto insieme Che dire Il Brawl Pass L'ho praticamente finito Grazie soprattutto A quello a pagamento Per me è gratis Visto che avevo le gemme Infatti Mi hanno dato più cose E adesso Visto che l'ho appena finito Tipo un'ora fa Adesso che sblocco Ogni 500 Mi da una cassa enorme Il che è molto onesto Allora direi di partire Da questa nuova reazione Intanto avevo perso Sta roba Avevo trovato Il fuoco di Penny Sì Ve lo faccio un attimo vedere Visto che non l'avevo Mostrato al video Ho trovato il fuoco di Penny Nella mega cassa Eccola qua Vabbè Comunque Reazione Presa Bella Dai rara Mega cassa E iniziamo qua Signori Forse era meglio Premare punti Uno skip Punti energia Un botto Era doppio getto Sì è meglio Prendere i punti energia Va se no vanno sprecati Boom 500 Ovviamente Vanno tutti Dove cavolo sta il brawler Ah eccolo Iris Iris S Deve arrivare a 1100 di quelli Poi questa Cassa enorme Uno skip Iris Peccato che stanno Alla fine Del cammino di trofei Normale Se no Era meglio Così non li sprecavo La provocazione Meglio alla fine Va Mi deve dare due skip Se no vanno sprecati I punti Anzi Maxabile No perché a 1100 Deve arrivare Ce lo maxiamo in diretta Va Monete Qua un botto Vai Cassa enorme Uno skip Niente Solo lui Mega cassa Qua Mi serve qualcosa Uno skip Vabbè niente E questi Credo Vanno sprecati Un botto Però Appunto Mi hanno dato I 99 A posto Ah E ovviamente Mi ha dato 800 Monete Per compensare Tutto E ci Sblocchiamo Gelindo Mercante Sì ce lo sblocchiamo 3 2 1 Vai Gelindo Mercante Skin che non Ritornerà mai Più L'hanno detto Solo per il pass Che figo Che figo E ci maxiamo in diretta Iris Vai Livello 7 Livello 8 Livello 9 Boom Anche l'abilità Spaccata Vai Allora Maxato Vediamo un attimo Le statistiche La vita Non è tantissimo Alta Però fa danno Qua E poi la super Ragazzi Devastante Il gadget Teletrasbotto Quello che si teletrasporta Con La ulti Ah E questo Fa più male Però non lo trovate Ancora l'abilità Quindi Comunque Gelindo Andiamo a selezionare Quello mercante Ma che figata È quello mercante È troppo figo Tire serpenti No vabbè Tire serpenti È troppo figo Tire serpenti Attenzione a quel tick Allora No è troppo bello Gelindo mercante Perché l'altro Più che altro È un po' semplice Va bene Per l'inverno È buggato tutto Che palle Ok Non moriamoci Bella Jackie Bella Si prende anche il catenaccio Però Attenzione È la gabessia Allora Gelindo mercante Si è buggata Tutta la partita Comunque Adesso Oltre A Iris Che abbiamo maxato Uno buono Da maxare Vabbè ragazzi Ho deciso Maxeremo Tara Maxiamo Tara Si così ci siamo fatti Sia Iris Che era il protagonista Del video Sia Tara Comunque proviamolo maxato Iris va Gelindo mercante Più o meno Avete visto un pezzetto Come va Anche se è poco Burotoni È quasi 3000 Ecco appunto Il gelindo mercante Spare i serpenti Ora teniamoci i colpi Shottato Ma avete visto Voi direte cosa? E invece si L'ho shottato Veramente Vedete Poi tutto Questo suono figo Wow Wow Come fa? È figo no? Allora Là c'è un mortis Quello muore No È scappato GG Budget Però Già Già perché è maxato Grazie Connessione Beh ragazzi Che dire Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Allora Comunque Si Se ve lo state chiedendo Il video Non è penitenza o cosa Ma era Se trovo il nuovo brawler iris Mangio qualcosa No Se trovo il nuovo brawler iris Lo maxo E l'ho diviso in due video E vabbè ragazzi Cioè in due video Nel senso Due parti Vabbò le unite Lasciate stare Che dire ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se vi va E noi ci vediamo presto Con un nuovo video Che dire Ciao ciao Uh Iscrivetevi al canale Grazie a tutti